bene muleoni proseguiamo la nostra avventura su need allora qui sulle mappe abbiamo wayne ana e yoshi se penso che si chiami così non mi ricordo mai poi andiamo a fare yoshi che o la macchina già da fuoristrada eccoci qua vedrete dai coglioni che bombetta comunque le gare da fuoristrada sono tanta roba a me piace un sacco siamo nella sabana comunque nei commenti fatemi sapere cosa ti sembra questa macchina per fuoristrada oppure quale avreste proprio poi andata il ricambio ti aspetta al garage roba c'è altro di cui vuoi disparti per ora no per un attacco pare che qualcuno ci stia cercando dobbiamo andarci piano per qualche tempo non ho finito con te andiamo nel garage a cambiarci auto così andiamo da ana auto cambiata andiamo da ana sicuro farà altri casiniana credi che il tizio verrà ma ci mancava solo questa ma la poliziotto i messaggi non sarà lei lo sapremo presto no basta così non vuoi riavere la tua auto esatto torres vi abbiamo visto con i soldi sappiamo cosa state combinando pensi di fregarci ti sbagli quella di ieri notte è stata una pessima mossa non vi siete chiesti di chi fossero quei soldi di qualcuno che ora è davvero incazzato chi come chi non vogliamo ascoltarla frank mercer vi vuole dare una bella lezione beh magari scegli un posto meno affollato credi che mi mandi frank non ho mai voluto questo e adesso è davvero troppo sta esagerando e bisogna fermarlo non sarebbe il tuo lavoro sì beh gli faccio rapporto e poi credete che non ci siano sbirri a coprirlo dall'interno non posso agire ma da voi non se lo aspetterà senti ci spiace che il tuo capo sia uno stronzo ma faremo a modo nostro grazie e tuo fratello la pensa come te ehi ferma tutto lui non c'entra niente con questa storia niente sentite la cosa non finisce qui lo capite io non posso rallentarlo a lungo quindi dovete fare qualcosa voi e in fretta non c'è alternativa in che modo per ora tenetevi alla larga da me vi manderò una posizione per fare cosa spostano della merce seguiteli e vedrete il resto sta a voi andiamo sempre da ana per fortuna c'era la segreteria era jordan che bel vetro che abbiamo fatto tutti stanno parlando di show e della sua disfatta siamo sotto i riflettori cerchiamo di restarci sì giusto ehi in arrivo a destra cosa aspettiamo seguiamolo così lo perderai ehi sta andando nel deposito di container fermiamoci qui che stanno facendo dobbiamo fare piano ci vedrà ok via libera andiamo parcheggiamo qua adesso non so di chi è questa F40 sì cosa gli è successo rallentiamo non so di chi è questa F40 ma come come becchi eh sembra tutto assolutamente legale scopriamo queste auto valgono una fortuna contro alcune ho gareggiato che stanno facendo sotto il telo c'è la macchina di Hano secondo me da baule pieno di soldi non sarà per tipo piano ma che cazzo volevamo solo la tua auto bastardi avresti dovuto vederlo ieri notte quando l'ho caricata sul camion stava per mettersi a piangere Frank l'avrebbe adorato ok sto con Torres fa un culo a Mercer va fermato per farlo ci serve un piano ci penseremo ok ok sulla mappa per il momento c'è solo Wayne quindi vado nel garage che così metto la macchina fatta apposta per le derappate il tracciato è vicino andiamo temo 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 facciamoci questa garetta dai così oddio buono ma stiamo scherzando visto nessuno dominare così il tracciato prestazione quasi perfetta comunque io non riesco ancora a controllarla molto bene secondo me ho sbagliato di mettere qualcosa che me la fa sbandare così tanto oh lea sulla mappa c'è di nuovo Anna perfetto vado di nuovo nel garage rimetto la ferrarina macchina cambiata adesso stiamo andando da Anna la ferricotero ce l'hai fatta ecco Eli e Manta della League ciao veniamo al punto stasera c'è un evento per lo showdown all'osservatorio ci saranno i giornalisti andremo alla festa attireremo l'attenzione porteremo le telecamere fino all'officina e saremo in prima pagina possiamo andare ora vengo con te non riesco a credere che siamo in ballo nella Liga è fantastico no 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 quanti cazzo sono spizzo dai merda rimaniamo in strada ok ora che casin dai cazzo devo riuscire andare là del benzinaio dai 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 cazzo si a questo me dice vendei attenzione sono stato io non so che cosa stai cercando di fare ma adesso basta fatti da parte tesoro ho appena iniziato ti prego lui non c'entra niente non ti può aiutare anaccaiate sai sembra che tuo fratello fosse un dolor e nel culo una volta ma tu cazzo lasciale stare è colpa mia oh lo so e come se lo so ci sono tante colpe da scontare tantissime voi due venite con me mi dispiace Lucas mi dispiace tranquilla ehi non farmelo ripetere no ti prego dove li vuoi portare andiamo solo in centrale a fare due chiacchiere tu resta qui torno subito ne uscirete ehi la centrale era lì dove vai? zetta guarda l'hai scoperto come? che vuol dire come? ci hai incastrato qualcuno ha parlato voglio sapere chi non diremo niente non è un gioco parla vuoi sapere chi è la lingua lunga? beh non diremo un cazzo se non ci liberi oh sì invece vi farò parlare io e quando avrò finito andrò dritto dal tuo fratellino e chissà se vorrà ancora fare il duro quando mi vedrà fare a pezzi quel suo garage di merda come? come? Lucas Lucas tiraci fuori voi state bene? Lucas sì tutto bene andiamo forza guido io e lecce nel pensiero sono forze ok un momento arrivo che diavolo fa? a tutte le unità agente in difficoltà collisioni tra Bullson e Paul sono sulla scena merda agente a terra Anna presto i sospetti cercano di fuggire fatti da parte tesoro ho appena iniziato ok ok andiamo veloci in sto posto mi serve un favore certo che succede? potete prendere le mie auto al garage Rivera e portarle a Cloudbank Nord immagino di sì questo è pazzesco sarò passata di qui un milione di volte che posto è? quando a casa si litigava è qui che venivo ci venivi spesso? non dopo la morte di papà lucas cosa è successo? quella gara non ne avevo bisogno ma volevo sempre di più mi mi beccarono e finì dentro feci la mia telefonata rispose papà ero pronto al peggio e beh pensavo che cosa dirgli ma per la prima volta lui non gridò rimase in silenzio poi riattaccò e tre ore dopo aspettavo ancora pensavo mi lasciasse dentro per darmi una lezione trascorsi tutta la notte nella cella a maledirlo e a augurargli cose terribili per avermi mollato lì dentro il giorno dopo un poliziotto mi disse che era morto dopo la telefonata aveva avuto un infarto avrei voluto dirtelo perché tenertelo dentro mi sentivo in colpa Lucas tu non c'entri niente non è colpa tua beh se ci avessi dato un taglio prima se l'avessi ascoltato non ci sono se sei qui con noi adesso è questo che conta ci sono persone che vogliono separarci distruggere ciò che rappresentiamo ciò che papà ha costruito io non lo permetterò se vogliamo agire dovrò assicurarmi che abbiamo le auto giuste sì così si fa questo fa parte del piano aveva dei nostri video ce ne saranno altri dell'operazione possiamo incastrarlo e dimostrare alla Liga che noi non c'entriamo niente oh cazzo serve la password è l'unico modo beh proviamo Mercer è un gatto? non l'hai detto davvero? hai un'idea migliore genio? io sì arrivo metto la Mazda così andiamo da Wayne e poi penso che per questo episodio può bastare perché c'era un sacco di storia macchinina cambiata ora andiamo da Wayne qui ci sono delle curve pazzesche occhi aperti davvero notevole non potresti fingere che sia almeno un po' difficile? a quanto pare vi abliminate c'è proprio un poliziotto qua nel mio garage ma che cazzo ma? ma dai ma stiamo scherzando era proprio davanti al garage cazzo vediamo cosa fa fare vediamo quanto siete preparati benone io penso che per questo video possa bastare penso che siamo andati parecchio avanti la prossima volta andremo da lui che non mi ricordo mai il nome sinceramente mi raccomando come sempre sostenetemi con un grandissimo like iscrivetevi al canale noi ci rivediamo in un prossimo video grazie